Luca Ricciuti, candidato nella lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali. Volendo fare un pronostico, chi vincerà? I sondaggi continuano a dare il centrodestra in testa. Qual è l'idea che si è fatto? Notoricamente, come tutti sanno, io non credo nei sondaggi, soprattutto quando in elezioni del genere la preferenza indirizza una gran parte dei risultati elettorali. Però sicuramente il centrodestra è in testa, la percezione che abbiamo girando tutta la provincia è questa e speriamo che il 10 febbraio si concretizzi questa aspettativa generalizzata degli abruzzesi. Siamo alle battute finali, sono gli ultimi giorni, facciamo insieme un bilancio? Credo che sia stata una campagna elettorale, a parte qualche tono fuori dalle righe, abbastanza concreto, abbastanza indirizzato alle concretezze che bisognerà poi perseguire immediatamente, quindi il giorno dopo dei risultati. Perché c'è la necessità di fare in fretta, questa regione è rimasta ostaggio delle volontà di Luciano D'Alfonso per troppo tempo. è rimasta bloccata e soprattutto senza la possibilità di proseguire un'attività di programmazione che è fondamentale in un ente del genere. Parliamo proprio del giorno dopo, quindi qualora fosse eletto, quale sarà il suo primo impegno? Sollecitare l'amministrazione regionale nell'assunzione di responsabilità nei confronti dell'Unione Europea e nella definizione del nuovo percorso dei fondi e quindi della rimodulazione dei fondi dell'Unione e questo sarà un impegno che ci assorbirà completamente per i primi mesi. Dobbiamo cambiare totalmente quello che è stato l'impostazione fino alla data in questo settore, che è il settore che alimenta l'80% dei fondi di investimento della regione. Dove chiuderete la campagna elettorale? Chiudiamo la campagna elettorale tutti insieme al Bliss, all'ex Frida, a Monticchio con Giorgia Meloni alle 18 domani giovedì. Invito tutti i cittadini ad esserci, sarà una grande festa per un risultato che il nostro partito, quello di Fratelli d'Italia, otterrà in maniera importante nella provincia dell'Aquila. Avete scelto Monticchio casualmente o è magari un tentativo di far conoscere le aree interne, le piccole frazioni, i piccoli paesi che vivono a dieci anni dal terremoto il problema dello spopolamento? Sicuramente è una delle motivazioni, grazie anche al fatto che esistono strutture adeguate a questi tipi di eventi. Però la sensibilità che tutta la classe politica aquilana deve dimostrare è proprio rispetto alla ricostruzione, per esempio, delle frazioni. Questo sarà uno dei temi che impegnerà l'amministrazione più degli altri. Grazie.